Allora, buongiorno a tutti, iniziamo, dedichiamo il primo minuto a questo avviso, che probabilmente l'avrete già visto sul gruppo Telegram, siamo usciti a ottenere un'aula migliore di questa, soprattutto dal punto di vista delle prese, disponibilità delle prese elettriche ai banchi, quindi dalla settimana prossima le lezioni del lunedì, quindi 8.30, 11.30, saranno in aula 1 e non in questa aula 1b, che so che ci mancherà tantissimo, ma purtroppo la dobbiamo salutare. Le lezioni del mercoledì invece rimangono così come sono, quindi è solamente lunedì il problema relativo all'aula. Ok? Quindi rimetterò di nuovo l'avviso all'intervallo per chi forse distratto e non l'avesse ancora visto. Ok, di che cosa parliamo oggi? Oggi proviamo a ragionare un pochino su come mettere insieme le varie parti che abbiamo cominciato a toccare finora. Da un lato abbiamo cominciato a giocare un po' con JavaFX e fare qualche piccolo giochino, qualche piccolo esercizio con l'interfaccia grafica. D'altro lato abbiamo fatto un po' di ripasso, la settimana scorsa abbiamo lavorato su quell'esercizio del libretto dei voti, il mercoledì avete lavorato sull'altro esercizio, se condiviamo così delle, indovina il numero, e ancora in, diciamo così, in modo tradizionale, quindi senza ancora un'interfaccia utente. Adesso proviamo a immaginare cosa vuol dire mettere insieme le due cose. Vorrebbe dire, per quello che sappiamo fare fino ad ora, prendere la logica di funzionamento che noi avevamo ad esempio dentro questa classe libretto, dove c'è una serie di metodi, una serie di strutture dati e una serie di operazioni e in qualche modo agganciarla a un'interfaccia utente. Cioè fare in modo che l'utente possa inserire i dati del libretto, visualizzare eccetera eccetera. Però poi a livello di codice, dove la mettiamo sta roba. Perché finora con gli esercizi che abbiamo fatto, tutto il codice, tutta la logica di funzionamento dell'applicazione stava nel controller, nella classe controller, dove c'era il numero da indovinare, il numero di tentativi, la parola che l'utente aveva inserito e così via. Quindi avevamo un'unica classe controller che faceva tutto, si occupava di diverse cose. A me preoccuperebbe un po' prendere questo codice lungo, che è tutto sommato un codice molto focalizzato sulla gestione della struttura dati e metterlo dentro una classe controller, abbiamo visto com'è fatta, adesso questo qua è vuoto perché non abbiamo ancora fatto nulla in questo esercizio, che però è molto focalizzata su un problema completamente diverso, che è quello di gestire gli eventi che provengono dall'interfaccia, è quello di leggere i dati che l'utente ha inserito sull'interfaccia, controllarli, validarli, abilitare o disabilitare i vari componenti dell'interfaccia e così via. Quindi sono due responsabilità, due funzionalità molto diverse tra di loro. Se noi mettessimo tutto insieme avremo un problema di gestione, non un problema di codice, alla fine il codice gira, ma avremo un problema di gestione, nel senso che avremmo un'unica, da un lato andrebbe contrario alla filosofia della programmazione oggetti dove puntiamo a fare classi diverse con responsabilità diverse, invece qui metteremo una classe in cui dice ok, facciamo tutto lì dentro. E poi avremo anche però problemi di sviluppo, nel senso che avere una classe come abbiamo fatto adesso, il libretto, sganciata dall'interfaccia utente, ossia che possa essere usata anche senza l'interfaccia utente, mi dà almeno due grossi vantaggi. Il primo è che la posso sviluppare e testare separatamente. Quindi se io volessi fare un tentativo di inserire 50 esami per vedere che cosa salta fuori, vabbè, inserisco 50 esami vuol dire che mi vado a prendere il mio programma di testa, anziché aggiungerne 4, aggiungo 50, magari metto un loop, magari genero casualmente i voti e i nomi e va bene così. E quindi posso attivare certe funzionalità algoritmiche direttamente da codice Java. Se invece questo codice del libretto fosse dentro la classe controller e se volessi testare cosa succede quando inserisco 50 esami, ogni volta che faccio run mi devo metterli e inserire tutte e 50 a mano, perché l'unico modo di richiamare queste funzionalità sarebbe attraverso i controller e quindi attraverso le funzionalità dell'interfaccia grafica. Quindi noi vorremmo riuscire a far sì che il controller e, diciamo, questo libretto con la parte di logica, lo usiamo, usiamo un esempio del libretto per fare un esempio di una parte dell'applicazione che si occupa di algoritmi in strutture dati, non di internazioni con l'utente. Devono in qualche modo parlarsi, ma ci conviene tenerle separate. Oggi cerchiamo di darci delle regole operative, pratiche, su come tenerle separate ma farle parlare a livello di organizzazione del nostro progetto JavaFX. Avevo parlato di due vantaggi. Il primo era la facilità di testarlo separatamente. Il secondo vantaggio sarebbe, che poi è una conseguenza del primo, il fatto che quando io sviluppo la logica potrei anche non sapere, potrebbe anche non interessarmi come è fatta l'interfaccia utente. Quindi sta roba qua può andare a finire dentro una procedura batch che gira di notte senza nessun utente collegato, può andare a finire agganciata a un'interfaccia grafica fatta in JavaFX, può essere messo dentro un server web in cui l'utente ci arriva attraverso delle pagine web e attiva quelle stesse funzionalità. Dal punto di vista dell'algoritmo che falcola, banalizziamo la media dei voti, non gli interessa da dove arriva la richiesta, gli interessa quali sono i voti e qual è il risultato che deve calcolare. E quindi sarò molto fiero di riuscire a sviluppare tutta la logica dell'algoritmo senza mai citare o importare una volta il package JavaFX. La parte di logica funzionale dell'applicazione non deve sapere, non vogliamo che sappia che questa logica è richiamata da un'interfaccia JavaFX, perché vogliamo che sia potenzialmente agganciabile all'interfaccia di tipo diverso e questo ci permette di mantenere una maggior separazione. Noi lavoreremo molto su questo concetto di ignoranza, fare in modo che una classe non sappia chi la chiama, non sappia chi la usa e questo la rende automaticamente più versatile, più riutilizzabile e ci aiuta, giocheremo molto su questa ignoranza mutua, soprattutto poi la settimana prossima quando ci aggiungeremo un altro attore allo schema che sarà il database. Allora proviamo a ragionare un po' su questo problema sulla carta innanzitutto. Allora qui le prime slide le saltiamo perché ci raccontano come è fatta un'applicazione JavaFX ma ormai ce lo ricordiamo, no? Questo diagramma qua in forma semplificata l'avevamo già visto la prima lezione, adesso forse lo comprendiamo un po' meglio, no? Queste sono le classi di base che compongono un'applicazione JavaFX dove abbiamo la classe application là su in alto che non abbiamo scritto noi, che fa parte della libreria JavaFX mentre la nostra applicazione estende la classe astratta application. E noi abbiamo lavorato sempre al di là del codice del main, dell'entry point, del programma di avvio, le nostre preoccupazioni erano soprattutto ovviamente sulla parte di destra della scena che contiene una serie di nodi, ok? Qui noi abbiamo una classe stage di cui ci siamo abbastanza di interessati, la finestra. Una classe scena che abbiamo costruito all'inizio attraverso il caricamento del file dal file fxml e dal file fxml sono stati creati tutti i nodi che sono quelli con cui effettivamente lavoriamo, no? Per intercettare gli eventi, per modificare i dati, per leggere i dati, per le proprietà dei singoli nodi. Quindi tutto il nostro focus è qui dentro. Queste classi vengono generate nel momento in cui carichiamo l'fxml e poi per lavorarci sopra ci lavorerà la classe controller che in questa figura non è ancora disegnata, ok? Questa è la parte minima di avvio del JavaFX. Però noi sappiamo che in realtà nelle nostre applicazioni per poter fare qualcosa di utile abbiamo bisogno di un controller che sia in grado di gestire l'interfaccia stessa. Ricordiamoci solo che tutta questa parte di destra della figura viene di tutti questi oggetti sulla nostra destra, noi non abbiamo creato neanche uno di questi. L'oggetto stage è stato creato direttamente dalla classe madre application, tutti gli oggetti scene e nodi sono stati creati dall'fxml loader, ok? Quindi non li creiamo noi e questo vuol dire, da un lato sono contenti perché abbiamo un lavoro in meno, dall'altro vuol dire che non possiamo personalizzare il meccanismo di creazione, se dovessimo passare un parametrino diverso non possiamo perché non siamo noi che li stiamo creando. Ci torniamo tra un secondo su questo concetto. Vabbè, poi qui spiega le solite cose che già conosciamo. Poi torniamo sulle... Adesso vogliamo aggiungere la logica di funzionamento a questo diagramma e ci chiediamo queste domande che sono indicate qua sotto, cioè come dobbiamo organizzare il programma per farlo crescere ma non complicare troppo, non intrecciare troppo la parte di interfaccia, che è già complicata perché se andiamo a vedere dal punto di vista temporale, in un codice a oggetti classico come quello del libretto, l'esecuzione del codice è puramente sequenziale, è totalmente prevedibile, perché sono io che dico quali metodi chiamare e ogni metodo sa che cosa deve fare. Nella parte di interfaccia utente invece è tutto imprevedibile, perché io vi ho i vari gestori di eventi che vengono chiamati in un ordine che dipende da che cosa farà l'utente. Io non so se ho due bottoni, quale dei due bottoni verrà premuto prima dall'utente. Quindi nel controller di fatto si lavora in modo asincrono, cioè non so quando capitano le cose perché non dipende da me, dipende dall'utente, e quindi dovrò fare attenzione perché magari l'utente preme un bottone in un momento in cui i dati non sono ancora pronti, perché non posso obbligarlo a fare le cose in una certa sequenza. Quindi lì dentro dovrò fare attenzione a un flusso di esecuzione che non è lineare, non è sequenziale, ma è asincrono e dipendente dagli eventi che arrivano. E quindi sono anche modi di pensare in modo diverso, di approcciarsi in modo diverso. Allora, questo è un esempio di un problema comune, no? Cioè il fatto che abbiamo una parte di interfaccia e una parte di logica che in qualche modo devono parlarsi. Noi lo applichiamo ai nostri esempi in Javascript. E ci chiediamo qual è la soluzione? La soluzione non è usa questa classe che ti risolve tutto. La soluzione è usiamo le classi che ci sono, usandole in un certo modo. Cioè, introduciamo il concetto cosiddetto di, in una frase, diciamo così, cosiddetto di design pattern, schema di progetto. Un design pattern che cos'è? Non è altro che, e qui ho messo la copertina di un libro, di quello della serie Hetzhorst, che a me piace, parecchio come stile, ma che è un'introduzione leggera a che cosa sono i design pattern. Poi ci sono libri molto più noiosi che parlano della stessa cosa. Un pattern, diciamolo con la pronuncia italiana, che è più facile, è una soluzione testata, provata, a un problema ricorrente. Ma non è una soluzione del tipo copia e incolla il codice, è un approccio, la soluzione, come organizzare il codice per risolvere una certa cosa. Noi conosciamo, avete appena finito, in corso di programmazione oggetti, tutte le costruzioni di base della programmazione oggetti. Quindi siete fatti venire mal di testa sulle classi, ereditarietà, attributi privati, protetti, tutte queste belle cose complicate. E poi uno rimane con la domanda e che cosa me ne faccio? Cioè, come uso queste funzionalità? Ok? È come se uno vi avesse insegnato, vi avesse fatto salire su un'auto, vi avesse detto questo è il volante, questi sono i pedali, questo è il cambio, queste sono le luci, ma non vi avesse insegnato a guidare. Hai dei controlli, ma per fare un sorpasso devi usarli in un certo modo, in un certo ordine. Ok? La stessa cosa succede qui. Una volta che abbiamo la padronanza dei meccanismi di base, chiediamoci come li combiniamo tra di loro per ottenere ciò che ci serve? Quindi non stiamo inventando, o studiando cose nuove rispetto alla programmazione oggetti, stiamo semplicemente cercando di applicare in un contesto specifico ciò che sappiamo trovando delle soluzioni provate. L'idea dei pattern è che lo stesso problema l'hanno affrontato prima di noi migliaia di programmatori molto più bravi di noi. e quindi noi cerchiamo un po' di copiare quello che hanno provato magari a risolvere un certo problema in tanti modi diversi e hanno visto che questo o quell'altro modo funzionano meglio. Ti evitano magari di incappare in problemi, in difficoltà, più avanti che magari noi da meno esperti non riusciamo manco a vedere, non riusciamo manco a cogliere. Quindi anziché inventarci le cose, farle un po' così come ci viene, a volte ci ispiriamo a quelle che sono le soluzioni già trovate in giro. E in particolare le interfacce grafiche chiaramente sono un problema molto ricorrente in qualunque linguaggio di programmazione, in qualunque tipo di applicazione, alla fine un'interfaccia ci deve essere. Allora, tra i vari pattern di programmazione che vengono usati, vengono proposti per lo sviluppo di interfacce utenti, questo chiamato MWC è uno di quelli che va per la maggiore e tra l'altro si concilia molto bene con la logica dell'Iberia Javascript e non è un caso ovviamente. Cosa ci dice questo suggerimento? È una regola ma non è una legge. ci dice guarda se tu vuoi fare un'applicazione interattiva cerca di separare in classi diverse tre parti diverse della tua applicazione, della tua logica. Queste tre classi, classi in realtà sono classi, possono essere package, possono essere gruppi di classi, cioè diciamo partiziona il tuo programma in tre parti diverse che hanno ciascuna dei ruoli diversi e giocano insieme, fanno un gioco di squadra ben coordinato e adesso andiamo a vedere come si coordinano. Allora queste tre parti del programma si chiamano appunto MWC Model, View, Controller. MWC sono le iniziali con tanta fantasia di Model, View e Controller. E quindi in un'applicazione grafica noi dovremmo avere il modello, leggiamo la definizione che è un po' la spiegazione del pattern che è indicata qua. Il modello contiene tutti i dati, lo stato e la logica applicativa. Il modello is oblivious to the view or the controller. Non sa oblivious, non ha idea, non ha la minima idea che esistano la vista e il controller o che cosa siano o che cosa facciano. Non lo sa. Sebbene fornisca un'interfaccia in modo che permetta di manipolare e recuperare il suo stato e possa inviare delle notifiche, vabbè questa ultima parte è un pochino più complicata la leggiamo più avanti. E possa, diciamo, lo dico in parole più semplici, informare se qualcosa cambia. Quindi il modello contiene dati e algoritmi. Quindi è il tipo di programmi che abbiamo fatto fino a ieri senza interfaccia grafica che puramente elaborano dati. Prendete quei programmi, togliete le print line perché quei programmi che facevate si stampate a video qui invece dovremmo mettere questi dati in un'interfaccia e anzi il modello non potrà mettere i dati sull'interfaccia perché lui ha invece scritto che non sa neanche che esistono l'interfaccia. Lui contiene dati, lo stato dell'applicazione, lo stato quindi l'insieme di tutte le informazioni e poi dei metodi che lo dice qua per manipolare, quindi scrivere, cambiare e retrieve per recuperare, leggere le informazioni che lui sta gestendo. È un po' l'esempio della classe libretta che abbiamo fatto. Gessisci dei dati, in questo caso una semplice lista di oggetti e ha dei metodi per poterla manipolare. Quali dati gestisce, quali metodi offre, dipende ovviamente da che cosa vogliamo fare. E questo è il modello. Poi le altre due classi sono la vista e il controller. La vista fornisce una qui usa una parola un po' strana una presentazione del modello cioè permette di visualizzare graficamente noi diciamo le informazioni presenti nel modello. La vista solitamente ottiene lo stato e i dati di cui ha bisogno per visualizzarli direttamente le ottiene dal modello. quindi se io ho una media del 29 lo sa il modello la vista avrà magari una casellina in cui faccio vedere questa media ma come numero la faccio vedere come istogramma la faccio vedere con il numero di stelline me lo posso inventare al modello non interessa al modello non interessa calcolare il numero la vista interessa metterlo diciamo così in bella in bella forma in bella vista ovviamente questo numero la vista non lo sa fino a quando non chiede al modello di poterlo dire di conoscerlo ok? quindi la vista ha questa duplice funzionalità una è scritta lì l'altra purtroppo non l'ha scritta una è quella di prendere i dati rilevanti dal modello e mostrarli all'utente la seconda funzionalità è di fornire all'utente delle cose da toccare dei bottoni delle caselle di testo degli elementi su cui interagire che devono essere anch'essi visualizzati poi la vista ovviamente non sa che cosa farsene come abbiamo visto prima quando avevamo un bottone nell'fxml se tu cliccavi il bottone normalmente non succedeva nulla perché quello è il compito dell'altra classe il controller che prende gli input dell'utente e capisce che cosa significa a livello di modello cioè capisce che se tu premi un bottone cancella tutto deve chiedere al modello di cancellare i dati capisce se che se tu premi il bottone aggiungi un voto e non hai messo le informazioni sul voto oppure le hai messe sbagliate perché il voto l'hai messo di 38 anziché di 28 deve capire che non deve dire nulla al modello perché quei dati non sono validi quindi questo è il controller che abbiamo già visto in java effects si chiama proprio controller anche lui quindi abbiamo una relazione di questo genere quando l'utente preme qualcosa immaginiamo l'utente preme un bottone dove lo preme? sulla vista la vista cosa saranno? saranno i nostri oggetti java effects i nostri nodi il nostro button il nostro text area il nostro text field eccetera eccetera se l'utente fa qualcosa questo qualcosa noi in java effect lo chiamiamo evento questo evento viene intercettato dal controller se non viene intercettato dal controller viene perso lo sappiamo già cosa fa il controller? il controller capisce qual era l'azione innanzitutto valida i dati controlla che questa azione richiesta dall'utente sia valida se è valida chiede al modello di eseguirla perché l'unico cervello la mente in realtà è solamente qua che conosce i dati conosce l'operazione il controller deve resistere dalla tentazione di gestire lui il dato il controller non deve avere una copia dei dati dentro di sé tutti i dati sono dentro quest'altra classe che qua genericamente è chiamata model noi nel nostro esercizio l'avevamo chiamata libretto voti model è chiaramente solamente un concetto non è un nome di una classe è un modo di organizzare il codice potrebbero esserci anche più classi qua e ovviamente il controller sa quale deve coinvolgere e dopo di che se il controller ha aggiornato lo stato del modello quindi ha aggiunto un esame ha cambiato la media l'ha cancellato eccetera dovrà poi aggiornare la vista in modo che nell'interfaccia utente compaiono i dati aggiornati ok? quindi il controller sta in mezzo ascolta cosa succede cosa fa l'utente quando l'utente fa qualcosa di interessante qualche comando chiede al modello senti guarda dovresti fare questa operazione e poi interroga il modello chiedendo i risultati cioè dimmi adesso qual è l'elenco degli esami e se qualcosa è cambiato nel stato del modello aggiorna l'interfaccia grafica se qualcosa succede nell'interfaccia grafica aggiorna il modello quindi il controller coordina l'interazione utente valida le operazioni con valida la correttezza dell'operazione di chiesto dall'utente e interagisce con il modello per far sì che queste operazioni vengano effettivamente eseguite e dall'altro lato riaggiorna l'interfaccia utente quando l'operazione è conclusa in modo che l'utente sappia che effettivamente la funzione che ha chiesto o il dato che ha chiesto viene visualizzato il risultato viene visualizzato ok? in questa figura ci sono altre due frecce la 4 e la 5 che per ora noi non usiamo la 4 e la 5 sarebbe relativa a un automatismo è pensabile che ci sia un automatismo per cui se cambia qualcosa nel modello in automatico il modello dica alla vista senti qualcosa è cambiato e la vista vada a prendere i dati aggiornati cioè se ci fosse una parte dell'interfaccia che deve semplicemente visualizzare una variabile il valore di una variabile che è presente ovviamente nel modello è possibile creare un automatismo per cui tutte le volte che questa variabile del modello cambia automaticamente l'interfaccia lo aggiorni dico automaticamente perché normalmente dovrei passare al controller dovrebbe essere il controller che legge questo dato e dice l'interfaccia di cambiare noi partiremo da qui la maggior parte del lavoro lo faremo passando sempre attraverso il controller ok? se avremo tempo più avanti vi racconto come si fa questa parte più automatica se qualcuno è curioso in JavaFX si chiama binding collegamento uno fa un bind crea un binding tra una proprietà del modello e una proprietà dell'interfaccia e poi ci pensa JavaFX a ricopiare il valore avanti e indietro ma non è essenziale semplicemente si scarica il controller da fare cose banali del tipo prendi questo valore e copialo sempre di là tutte le volte che cambia copialo di là e lo si automatizza però non diciamo così non è la parte cruciale della nostra organizzazione quindi mappando questi concetti generali nei nostri programmi JavaFX chi è che gioca la parte della vista e beh l'oggetto scena e tutti gli oggetti nodo che sono quelli generati dall'FXML che sono quelli visibili all'utente e che sono quelli con cui l'utente può interagire quindi la componente v la vista dell'MVC per noi è l'FXML tutto ciò che sta nel grafo della scena che di fatto costruiamo definendo il file l'FXML chi fa il controller e beh la classe controller in JavaFX che uno ha accesso diretto a tutti i nodi della vista due ha la possibilità di definire il gestore di eventi per alcuni eventi specifici che accadono nella vista questo l'abbiamo già fatto controller e vista sono legati a filo doppio uno non può esistere senza l'altro o meglio la vista potrebbe esistere senza controller ma poi non fa nulla di utile il controller da solo non fa nulla perché se non ha dei nodi vista dell'FXML con cui da leggere scrivere o intercettare gli eventi sta lì fermo inutile quindi vista e controller si devono conoscere l'un l'altro meglio il controller deve conoscere la vista in teoria la vista potrebbe fregare niente di chi è il controller che la sta comandando infatti noi magari ci disegniamo prima l'interfaccia utente diamogli id agli elementi e chiudiamo questo prima ancora di cominciare a scrivere la prima riga del controller però essenzialmente un controller va pensato su un determinato vista se io cambio gli elementi dell'interfaccia chiaramente il controller lo dovrò cambiare e mentre invece il modello è la parte esterna che ci facciamo noi quindi sono tutte le classi una o più classe che gestiscono i dati e dalla settimana prossima vedremo che gestisce anche l'interazione l'interfacciamento con la base dati quando i dati saranno nel database e non più semplicemente quattro dati di prova messi dentro il codice adesso come facciamo è facile dire vabbè abbiamo classi diverse questa classe modello allora questa classe modello ci sarà class model va bene chi la crea questa classe? qual è il costruttore? dove viene messa l'operazione di creazione la new? come fa il controller a conoscere il modello? abbiamo detto che è importante che il controller conoscere il modello perché ne deve chiamare i metodi ma il modello non sa per nulla del controller chi fa che cosa? queste sono poi le domande pratiche che sono scritte qua allora io provo prima a provare a rispondere a queste domande facendo riferimento all'esempio di indovina il numero perché è più semplice e poi dopo passiamo sul codice e proviamo a farlo sul nostro esercizio un pochino più ampio del libretto ok? allora questa è la versione semplice dell'esercizio indovina il numero dove abbiamo qui ho usato queste classe scena che in realtà rappresenta la vista con tutti i suoi nodi e abbiamo tutta una serie di metodi get e set che abbiamo già usato per leggere e scrivere le proprietà dei nodi questo è quello che abbiamo fatto la settimana scorsa non c'è ancora nulla di ciò che abbiamo detto oggi in questo disegno e poi avevamo la classe controller che gestiva una serie di interfacce tipo il numero massimo di tentativi il numero segreto eccetera eccetera erano variabili di gioco variabili logiche che però erano dentro il controller il controller conteneva due tipi di variabili c'erano i riferimenti ai nodi e le variabili di logica di logica applicativa che in questo caso era l'algoritmo del gioco e poi ovviamente c'erano anche lì dei metodi che erano i gestori degli eventi delle azioni e anche degli altri metodi che invece determinassero hai vinto non hai vinto quanti tentativi hai fatto eccetera tutto mescolato se noi vogliamo applicare ah scusate e il controller la classe controller ci abbiamo scritto dentro ma non ci siamo mai chiesti chi si ci siamo chiesti chi crea questa classe quando viene creata la classe noi non abbiamo mai creata nel nostro main la classe controller noi abbiamo creato la scena usando il metodo la classe fxml loader a sua volta la scena contiene al suo interno una direttiva col nome della classe controller l'abbiamo visto in simbuilder in basso a sinistra c'era il nome della classe del controller che potevamo specificarlo e allora lo stesso fxml loader quando ha finito di creare i nodi della scena crea il controller e fa i collegamenti tra i nomi le proprietà tra gli id dei nodi e le variabili del controller quindi anche la classe controller che noi abbiamo scritto poi viene istanziata nel codice non da noi non dal nostro codice ma dal codice della libreria non l'abbiamo creata noi né questo né questo creata specificamente con un new intendo questo è un altro pattern di programmazione che useremo parecchio quando devo creare un oggetto tante volte non uso new per creare l'oggetto stesso ma uso il metodo di un'altra classe che la sa più lunga per creare magari quell'oggetto e tutti quelli correlati ad esso quest'altro pattern si chiama factory fabbrica chiedo un metodo fxml loader di costruirmi lui di fabbricarmi le classi che mi servono a partire dall'fxml e per costruire oggetti complessi a volte la logica del solo costruttore noi quando facciamo new chiamiamo un metodo solo e possiamo solamente dare certi parametri quella logica lì a volte non basta e serve invece farcelo costruire da qualcuno che costruica magari non solo una classe ma un intero insieme di classi e allora anziché fare new chiamiamo un metodo di factory diremo che faccia il lavoro per noi e ci restituisca i riferimenti agli oggetti già creati in questo caso nel nostro codice main abbiamo l'fxml loader questo metodo loader di fatto è un metodo di factory di una scena e ci restituisce un albero di nodi che poi noi inseriamo all'interno della scena quindi noi abbiamo direttamente il riferimento al nodo principale della scena di primo occhito così sappiamo che viene creata la classe controller perché l'abbiamo usata ma non vediamo qua dov'è la classe controller è stata creata ma non ci viene dato non ci viene restituito da questo metodo load il metodo load crea quella classe ma non ci dice dov'è quindi se dobbiamo poi farci del lavoro sopra dobbiamo scoprire come fare ottenere un riferimento al controller il riferimento ai nodi lo sappiamo come si fa si mette l'id nell'fxml e questo viene automaticamente iniettato nelle variabili locali del controller quelle annotate con chiocciola fxml controller no vabbè però è stato creato ok adesso se noi vogliamo applicare il metodo mvc dobbiamo tirare fuori dal controller ciò che ha a che fare con la logica del gioco dell'applicazione quindi il controller deve conoscere i nodi della scena qui semplicemente ho messo un riferimento view cioè il controller deve conoscere la scena qui in realtà non c'è nessun oggetto view ci sono i vari oggetti nodo e ovviamente il controller deve gestire gli eventi che arrivano e basta perché poi quando c'è da fare un'operazione vera e propria sul gioco sui dati deve chiedere questa operazione alla classe che si occuperà del gioco ho chiamato numero model per ricordarmi che è una classe che gioca il ruolo del modello ma in realtà gioca il gioco del numero che ovviamente avrà il numero massimo di tentativi eccetera eccetera e i vari metodi per gestire il gioco avvia il gioco dimmi se il gioco è in corso fai un tentativo nuovo dimmi se questo tentativo è valido o no insomma le varie operazioni che devo fare se io vedo le frecce mi accolgo che questo modello è conosciuto solo dal controller solo il controller ha bisogno di chiamare dei metodi sul model e lo chiamerà quando lo decide lui in funzione degli eventi che capitano sull'interfaccia il modello invece non ha nessuna freccia all'indietro quindi il modello non chiama mai nessun metodo del controller non conosce il controller stesso qui dentro tra le sue variabili non c'è il controller e non chiama e non vede tantomeno i nodi della scena una classe un po' autistica sta da sola ma si mette a servizio degli altri ok e che è bene perché se noi tagliassimo questa freccia qua e avessimo un main di prova per testare il gioco potremmo farlo e la classe modello non se ne accorgerebbe nemmeno adesso questo però questo è il punto d'arrivo a cui vogliamo arrivare ma ovviamente dobbiamo chiedere questa classe qui non basta dichiararla bisogna che qualcuno la istanzi e crei un oggetto di tipo model chi lo fa allora il primo istinto potrebbe essere ma visto che di questa classe ha bisogno di lavorare il controller mettiamo nel codice del controller un new di questa classe qui la facciamo creare nel controller in realtà non è la soluzione migliore la soluzione migliore come indicato da questo disegno è che il modello venga creato direttamente dal main l'ho chiamato application perché ma diciamo che se io avessi un'applicazione più complicata di quelle che facciamo noi con tante finestre con tante videate avremo tante viste ciascuno delle quali al suo controller e quando l'applicazione passa da una finestra a un'altra una vista viene distrutta il suo controller viene distrutto e viene creata un'altra vista e viene distanziato da zero su un altro controller e allora il modello però deve permanere non deve dipendere dal fatto che l'utente sta cambiando videata così come abbiamo detto che il controller non ha bisogno di mantenere al suo interno nessuna informazione sullo stato dell'applicazione ecco il riferimento al modello la classe modello fa parte anzi è lo stato dell'applicazione quindi è meglio se non è nelle mani del controller perché appunto altrimenti con applicazioni più ampie non sapremo cosa fare quando cambio non è che quando cambio finestra perdo tutti i dati quali devo ricostruire all'interno del modello questo modello deve sopravvivere anche al cambio di controller e quindi lo facciamo creare da chi sopravvive a tutto cioè il main quindi il main crea già il modello scusa crea già la vista con la fxml loader in qualche modo fa sì che venga creato il controller sempre attraverso l'fxml del loader e a questo punto non c'è due senza il 3 si crea anche il modello quindi questa classe modello viene creata all'interno del nostro main adesso andiamo a modificare il main per farlo ok ok allora abbiamo detto la parte sopra è fatta dal controller togliamo un po' di metodi un po' di variabili li spostiamo in un'altra classe modello questa classe modello la creiamo facciamo un new dentro il main ci manca ancora un pezzettino dopo che il main ha creato questa classe come fa il controller a sapere a conoscere questa classe il riferimento a questa classe qui e dovrò in qualche modo dire al controller senti le operazioni che tu devi fare o devi far fare chiedile a questa classe modello e chi può dire al controller qual è la classe modello l'unico che lo conosce cioè il main che l'ha creato quindi dentro il modello aggiungeremo una variabile locale che chiameremo modello in qualche modo simile e un metodo set model che permetta al main di dire al controller tu lavora su questi dati dimmi il controller può interagire solo con una scena o con più la domanda è se il controller può interagire solo con una scena o con più di una scena il controller nasce dentro una scena e viene creato dalla scena stessa e di fatto è legato non dico insolubilmente a quella scena perché in realtà facendo dei trucchi più complicati si può fare in modo di avere più scene diverse che usino uno stesso controller però quando in un controller abbiamo le variabili che rappresentano i nodi di una scena capisci che quel controller lavora su quella scena lì se lo agganci a una scena diversa quel nodo non c'è e quindi darebbe errore quindi normalmente un controller lo vediamo come un di cui della scena della parte intelligente della scena prego ok allora cerchiamo di in pratica no allora la cosa importante che continua a esserci in questa figura è che il modello poverino non sa niente di tutto ciò che gli succede intorno continua a non sapere nulla qualcuno l'ha creato e lui vive e qualcuno li chiamerà i suoi metodi ne chiamerà i metodi chi l'ha creato è il main e chi ne chiama il metodo è il controller ma lui vive felice nel suo mondo e questo era l'obiettivo principale come fare a far sì che la logica applicativa non venisse mescolata alla logica di interfaccia e però potesse essere comandata dalla logica di interfaccia con questo schema direi che abbiamo raggiunto entrambi gli obiettivi adesso cerchiamo di calare questo schema nel nostro esercizio che abbiamo iniziato la settimana scorsa faremo una serie di trasformazioni essenzialmente all'applicazione main ma anche un pochino al controller una serie di trasformazioni che poi saranno sempre le stesse in tutti i progetti che faremo cioè dobbiamo quando creiamo un progetto nuovo il progetto parte così noi per poterci agganciare un modello dovremo trasformare il progetto da così a così l'abbiamo fatta a lunga sono poi quattro righe di codice non preoccupiamoci però il problema non sono le quattro righe di codice capire il meccanismo che sta dietro perché abbiamo deciso di fare certe scelte ok allora proviamoci teniamo come riferimento questa figura e proviamo a tornare sul nostro giochino del libretto voti e cercare di dargli un'interfaccia utente allora la prima cosa che dobbiamo fare in realtà è pensare all'interfaccia utente che permetta di richiamare certe funzionalità allora questo non c'entra con il ragionamento di oggi ma ovviamente dobbiamo inventarci qualcosa allora io provo a pensare a un primo passo di un'interfaccia utente per gestire questo libretto noi potremmo avere ad esempio una finestra in cui c'è scritto libretto voti come titolo poi abbiamo un'area in cui vengono visualizzati i voti attuali e poi posso avere uno spazio in cui posso aggiungere un nuovo voto per ora facciamo solo la funzione più semplice l'add ok e quindi avrò un'area in cui posso inserire il nome di un nuovo corso posso inserire il voto magari questa è una tendina dove ci metto il numero da 1 a 30 questo dovrebbe essere una freccia e poi metto un bottone aggiungi capite perché non ho fatto l'artista vero? conviene sempre prima di buttarsi nello sim builder avere un'idea di che cosa vogliamo ottenere no? allora cosa vuol dire? vuol dire che noi abbiamo in qualche modo due parti proviamo a sezionare l'interfaccia abbiamo un titolo abbiamo una prima parte in cui visualizziamo i voti e una seconda parte in cui invece è un piccolo form con dei vari campi qui l'ho disegnata come tabella che verrebbe bene no? si verrebbe bene ma purtroppo non siamo ancora capaci di usare le tabelle in Javascript ok? quindi per ora facciamola semplicemente come un'area di testo dove scriviamo le cose dentro ok? quindi questa qua sarà una text area poi impareremo a fare tabelle questa qui purtroppo sarà una text area non una vera table c'è la table view ma un pochino più complicata oggi non mettiamo troppa carne al fuoco un'area di testo in cui stampiamo uno per riga i vari voti che abbiamo ottenuti come la possiamo chiamare questa text area potrebbe essere txt vuoti poi abbiamo degli elementi sotto che magari metterei in una griglia una griglia un po' storta scurate in una grid pane di tre righe e due colonne qui sopra avrò una casella di testo che posso chiamare quindi sarà una text field che possiamo chiamare txt nome e qua sotto abbiamo una menu a discesa che in JavaFX possiamo usare un combo box combo box il cui nome possiamo dare cmb così mi ricordo che è una combo box punti e poi abbiamo un bottone a cui associeremo l'evento di aggiunta il nuovo voto fin sarà handle nuovo voto questo è il nostro progetto ok c'è tutto ciò che ci serve chiaramente questa text area all'inizio sarà vuota poi quando aggiungo un primo voto sostituirò il testo vuoto con la informazione sul primo esame quando aggiungo il secondo e così via i metodi per gestire i voti e gli esami li abbiamo già nella classe libretto ok ci siamo in qua allora passiamo a questo punto al codice vista controller il modello ce l'abbiamo già quasi allora cominciamo dalla vista vista che abbiamo già fatto il progetto bellissimo e prendiamoci il nostro fxml e cerchiamo di trasformarlo in questa cosa qui quindi buttiamo via ciò che c'è ci inseriamo un titolo come sempre nel top che si chiamerà libretto voti e lo facciamo un po' più grande e va bene e poi nella parte centrale della nostra interfaccia ci aggiungiamo dunque noi avevamo due sezioni una sopra e l'altra sotto quindi le posso separare con una v box ad esempio no? queste due sopra e sotto sono due figli di una v box che è in colonna in verticale quindi posso prendere una v box cosa ho fatto mi è sparita la libreria sopra che è accesso view show library qua v box c'è qualcosa che non gli piace qua dentro sto scrivendo mi è maschincantato l'altro quindi nel centrale metto una v box nella parte alta della v box metterò la text area abbiamo detto nella parte bassa mettiamo una grid in cui distribuiamo i bottoni quindi nella parte alta mettiamo una text area come primo figlio della v box come secondo figlio della v box mettiamo la grid grid pane qua questa griglia adesso lui me la fa di 2x3 per fortuna è già la dimensione che ci serve se no ovviamente potremmo con qua con il tasto destro selezionare una colonna e dire aggiungi una colonna aggiungi una riga le solite operazioni che si fanno sulle tabelle adesso è brutto da vedere come sempre io la prima operazione che faccio sempre è quello di fare in modo che le box si ridimensionino da sole la stessa text area anche ecco diamo dimensione un pochino più meno deformata meno strana poi volendo aggiungiamo i margini tutto quello che volete allora in questa griglia sotto abbiamo detto che dobbiamo mettere sulla sinistra le etichette e sulla destra i campi di testo e il bottone quindi abbiamo delle etichette sulla sinistra sono una qua e l'altra qua sulla seconda riga questa si chiama nome corso un grid pane non è come una tabella di word non posso scrivere direttamente dentro la casella le celle sono dei contenitori di altri nodi quindi ci devo mettere degli elementi dentro i nodi e quindi in questo caso ci ho messo una label nel secondo caso ci metto abbiamo detto voto punteggio a fianco di nome corso ci metterò un text field attenzione che text field ce ne sono due uno in nero l'altro in blu allora non usate i componenti che hanno l'iconcina in blu perché quelli richiedono una libreria a parte si chiama libreria glue anche stata sviluppata da altre persone quindi se portate dentro uno di questi poi non vi funziona a meno che non importiate anche questa libreria ma non è che ci serve quindi ricordate fate attenzione a volte diciamo ma ho messo un text field ma non me lo prende la tipica cosa che dite e il sintomo è quello quindi mettiamo un text field qua e poi ci mettiamo una combo box sotto e alla fine un bottone qua il bottone lo chiamiamo aggiungi guarda che bello fantastico adesso converrà magari un po' di margine un po' di spazio un po' di aria ma restringere forse un po' questa colonna questo bottone magari lo vogliamo a destra ma quello se vogliamo lo possiamo modificare la parte estetica lo possiamo modificare quando vogliamo anche in seguito l'importante è capire quali sono gli elementi che ci servono un'interfaccia una volta che abbiamo capito quali sono gli elementi possiamo passare al controller e cominciare diciamo a usarli e poi se vogliamo appunto migliorare i font l'allenamento quello che volete basta modificare l'fxml finché non aggiungiamo non togliamo cambiamo i nomi o il gestore di eventi ai vari elementi il controller non lo deve sapere quindi noi dobbiamo fare in modo che il controller possa accedere a quest'area di testo e quindi dobbiamo dargli un id all'area di testo che nel nostro bellissimo progetto avevamo chiamato txtvoti txtvoti o t perché non me la prenderei o t ok ok poi devo dare un id a questo campo di testo che abbiamo deciso di chiamare txt nome txt nome nome e un id a questa combo box che abbiamo deciso di chiamare cmb punti cm m b punti punti quindi controlliamo sotto lui ci dice che abbiamo dato tre variabili txtvoti alla textarea txt nome al textfield e cmb punti alla combo box e al bottone aggiungi dovrò gestire invece l'evento on action che dovrà essere implementato da un metodo che abbiamo deciso di chiamare handle nuovo voto nuovo voto e lo metto nell'on action non mi serve l'id del bottone perché non ci devo far nulla sul bottone quindi disegnato l'interfaccia e gli elementi che mi servono tutti gli elementi di cui voglio leggere o scrivere le proprietà che sono l'area di testo il campo di testo per il nome il menu tendina il combo box per il voto devo dargli un id in modo che da java li possa accedere tutti gli elementi che invece devono scatenare delle azioni come in questo caso la pressione del bottone invece dovrò definire un action handler gestore di event ok quattro cose fatte fatto questo posso salvare torno da eclipse e gli dico di aprirsi anche lui il file così vediamo vedete che c'è punteggio nome corsa eccetera eccetera me l'ha riletto perché sapete che se no eclipse non si accorge delle modifiche che abbiamo fatto e adesso possiamo metterci a lavorare sul controller ci facciamo generare lo scheletro del controller da lo sim builder conviene se voi mettete puntate la casellina full aggiunge due metodi in fondo anzi uno che è un metodo che si chiama initialize ok normalmente lo scheletro del controller mi dà i riferimenti alle variabili e lo scheletro del metodo che stiamo definendo degli eventi che stiamo definendo se metto anche full lui mi aggiunge essenzialmente questo metodo più un paio di altre variabili sopra che non ci servono e questo metodo initialize viene chiamato dal controller dopo che è stato creato lo vediamo direttamente ci ragioniamo direttamente quando siamo in eclipse quindi copia torno in eclipse apro la classe controller butto via tutto e ci incollo questo ok quindi abbiamo le tre variabili che fanno riferimento ai tre nodi iniettati automaticamente dall'fxm del loader e un metodo initialize e ovviamente il nostro gestore di evento che per ora è vuoto perché non ci abbiamo ancora fatto nulla metodo initialize viene chiamato dopo che la scena è stata costruita allora sempre il nostro fxml loader che fa tutto il lavoro fxml loader legge il file fxml costruisce i vari nodi ok della scena costruisce la classe controller controller e poi chiama inietta i riferimenti quindi quando ha costruito la classe controller queste sono variabili non definite e lui grazie a questa annotazione fxml va a dargli un valore a queste variabili che se facessi new di questa classe sarebbero tutte null no? tutte null questi tre valori l'fxml loader dopo che ha fatto la new di questa classe va a iniettare dentro il riferimento giusto in modo che questo punti esattamente la casellina di test dopo che ha fatto questo lavoro chiama il metodo initialize dicendo senti caro utente che sono io caro programmatore se hai altro da fare se hai altre operazioni da fare all'inizializzazione del controller puoi farle qui ti chiamo io questo metodo quando tutto è pronto quando il programma non è ancora partito ma la scena c'è già i valori sono già collegati eccetera noi ad esempio una cosa che dovremmo sicuramente fare in questo metodo initialize è popolare la tendina con i voti del 1830 perché però la tendina non ha niente dentro no? io dovrò metterci dentro i valori tra cui l'utente deve scegliere quando lo faccio lo faccio subito appena il controller parte allora questo se tutto va bene è un programma che non fa nulla ma che parte in modo grafico non in three point devo partire dal main scusate no? lanciando il main dovrebbe saltar fuori questo che ovviamente non fa nulla non scrive nulla e non aggiunge nulla va bene perché il nostro controller non fa nulla ok? allora facciamo solo una prima operazione estetica di mettere qualcosa dentro estetica no ma di mettere qualcosa dentro questa tendina mettere i numeri dal 18 al 30 e poi dovremmo per poter andare avanti da questo momento in avanti questi numeri lo sappiamo già che sono dal 18 al 30 qualunque altra cosa il controller non la sa fare avrà bisogno del modello e quindi dovremo poi agganciare il modello fare l'operazione che dicevamo prima allora chiudiamo questo allora la combo box come funziona innanzitutto contiene una serie di oggetti combo box è una classe generica che ha come argomento generico il nome dell'oggetto che esso contiene quindi è una lista sta roba gestisce una lista dentro la combo box c'è una lista una lista di oggetti del tipo che voglio io quando io scelgo un elemento da questa lista lui mi fa vedere non gli oggetti gli oggetti non si possono vedere mi fa vedere il to string di questi oggetti la rappresentazione testuale di questi oggetti ma dentro lui si ricorda il riferimento agli oggetti veri ok quindi se avessi non è questo il caso se avessi un elenco di voti perché dico cancella un voto quale? sceglilo dall'elenco in quella tendina non ci vado a mettere il nome del voto sotto forma di string ma ci andrei a mettere l'oggetto voto poi il to string lo visualizza in un certo modo e quindi nella tendina vanno a finire dei caratteri delle stringhe ma dentro lui si ricorda qual è l'oggetto ricordiamoci che noi il più possibile cercheremo sempre di lavorare a livello di oggetti non a livello di stringhe o di numeri quindi nel nostro caso qual è il tipo di oggetto che vogliamo selezionare in questa tendina in cui devo scegliere il punteggio è un numero intero è un numero questo allora farò in modo che questo contenga degli oggetti integer non string ci potrei popolare questa tendina con i numeri con oggetti integer numeri interi da 18 a 30 oppure con stringhe che leggono 18, 19, 20 ma perché dovrei farlo con stringhe che poi dopo mi incasino la vita a dover convertire la stringhe in numero ci metto direttamente il numero qui non ci devo mettere l'oggetto voto perché ricordiamoci che l'oggetto voto fa riferimento a un esame già superato con un certo voto invece qua devo avere tutti i punti infatti l'ho chiamato punti non voto tutti i punteggi possibili quindi devo sempre definire a posto di quel punto interrogativo che è un generico non definito mettere la classe che voglio che sia contenuta all'interno dei valori possibili leciti generabili da questa tendina in questo caso io so quali sono questi valori e quindi posso popolare questa tendina direttamente dal mio metodo initialize lui ha messo questi in automatico questi restituzioni assert che vanno a controllare essenzialmente che le variabili ci siano se ne sono state inizializzate se noi non andiamo a toccare cose non dovrebbe succedere ma lasciamoli sono sempre controlli in più come faccio ad aggiungere il contenuto a questa tendina vabbè allora io avrò l'oggetto comb punti che ha tante proprietà ovviamente come tutti gli oggetti e una proprietà in particolare si chiama items guardate quanti get ha questa roba qua una di queste si chiama items e la descrizione qui è scritto in piccolo ce lo ve lo leggo questa proprietà ovviamente getIsland fornisce il valore della proprietà item bravo e cos'è la proprietà la proprietà contiene la lista di item da mostrare all'interno del pop up della combo bo cioè quando apro il menu cosa fa vedere quale lista di oggetti fa vedere quindi questo è il metodo che mi dà una c'è scritto lista quindi si comporta come una list questa roba qua quindi ha tutti i metodi di una list all'add all'clear all'find eccetera eccetera tutti i metodi di una gli stessi che avrebbero un array list una linked list questa qua è un tipo di lista diversa la chiama observable list ma fa lo stesso questa parola observable ci fa capire che volendo potremo fare dei collegamenti diretti tra controller tra la vista e il modello ma però non ci serve sappiamo che è una lista e vediamo che lui ha già capito che è una lista di integer perché ovviamente la combo box l'abbiamo personalizzata sul tipo integer allora essendo una lista io posso aggiungere a questa lista i vari valori quindi magari per sicurezza puliamola metti che ci sia roba dentro non ci sarà e poi è sempre bene inizializzare le cose questa lista c'è già non la devo creare io non devo fare una new della lista è già una proprietà inizializzata dentro l'oggetto a cui io voglio assegnare un valore e quindi partirò da 18 e andrò fino a 30 e per ciascun valore di punteggio avrò combo punti punti punto get items punto add p questo è banale erano dei numeri che già conoscevo questo add o un add all potrei prendere dei valori che ho dentro una lista e metterli lì e questa lista posso averla ottenuta chissà come non importa sto travasando degli oggetti da una lista a un'altra e poi ci pensa java fx a mostrare a fare tutto il resto del lavoro io so che la combo box per me contiene una lista di oggetti punto a questi oggetti deve esserci un metodo toString decente in modo che quando apro la tendina si legga un contenuto che all'utente è comprensibile fine se io aggiungo tolgo elementi da questa lista la tendina quando la apro avrà questi elementi in più in meno e visto che non ci basta dirlo parole verifichiamo che adesso questa tendina effettivamente contiene questi valori e ne posso scegliere uno anzi ne devo scegliere uno quindi questo codice viene eseguito prima di passare il controllo dell'interfaccia utente durante la fase di costruzione di questo oggetto ok adesso viene la parte interessante finora abbiamo fatto questo ma lo sapevamo già fare la settimana scorsa magari qualche dettaglio in più ma alla fine erano le cose che già facevamo adesso dobbiamo fare questo perché è bellissimo la nostra interfaccia ma quando premiamo aggiungi non sappiamo che cosa fare quando premiamo aggiungi in realtà dovremo chiamare il metodo add della classe libretto quindi il mio controllo è dove apprendere il nome del corso il voto se ci sono entrambi quindi se l'utente li ha selezionati entrambi creare un oggetto voto e chiamare il metodo libretto.add di quel voto quindi il libretto per noi è il modello questa classe libretto l'avremmo potuto chiamare model a tutti gli effetti è il modello di questa nostra piccola applicazione perché gestiamo solamente un libretto se noi gestissimo tanti dati diversi allora avremmo magari una classe unica che si chiama model dentro la quale c'è un libretto c'è un'altra cosa richiamiamo delle altre sottoclasse facciamo un passo per volta però il modello è composto da una classe sola ok e quindi abbiamo detto che questa classe modello nel nostro pattern vogliamo che venga creata dal main vabbè facile noi abbiamo il main che è entry point e quindi a un certo punto prima di arrivare allo show dello stage che poi fa partire il programma quindi noi qua perdiamo il controllo qua in mezzo costruiamo il modello che è un'istanza della classe libretto la variabile la chiamo model per ricordarmi cosa fa qual è il suo ruolo ovviamente la classe libretto qui siamo nell'entry point che è nel package principale lui non la vede in automatico perché queste classi le abbiamo create tutte eravamo già lungimiranti la settimana scorsa in un package che abbiamo chiamato model e quindi questo lo andiamo a importare da librettovoti.model quindi a questo punto quando il programma parte mentre fa tutto il setup dell'interfaccia grafica crea anche la classe libretto chi si chiama in questo caso l'ho chiamata model che servirà al controller per chiamarci il metodo add come minimo come fa il controller a sapere a conoscere qui siamo in una classe entry point nella controller siamo in una classe fxelmen nel controller come faccio in questa classe a conoscere il riferimento all'oggetto che ho appena creato qua beh nella figura ci dice allora semplicemente dentro il controller aggiungi un metodo set model in cui puoi dire al model guarda questo è l'oggetto su cui devi lavorare aggiungiamo una proprietà al modello scusate al controller e questa proprietà semplicemente si ricorda qual è il modello su cui lavorare questo è facile quindi vuol dire che nel controller aggiungo un'altra proprietà forse l'unica che non sia collegata direttamente all'interfaccia utente private libretto chiamiamolo pure model e ovviamente nel controller dovrò importare la classe dal package model va bene se il controller conosce il modello non va bene il contrario e quindi questa classe qui avrà anche un altro metodo che posso mettere qua sotto un semplicissimo setter public void set model model il libretto in questo caso che è un setter banalissimo this.model uguale model quindi controller si ricorda si ricorda qual è la classe model su cui lavorare si ricorda e chi gliel'ha detto gli avrà detto il main chiamando il metodo set model quindi a questo punto dentro a questo metodo endo newVoto potrò poi scrivere qualcosa del tipo model.add newVoto di bla 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 no? anche voto ovviamente dovrò importarlo questo è poi il nostro punto d'arrivo alla fine devo chiamare questo metodo add adesso ho messo i dati a caso perché poi questi dati dovremo andare a leggere dall'interfaccia eccetera eccetera quindi abbiamo predisposto il controller per poter agire sul modello manca ancora un passaggio che è quello di fare in modo che questo metodo set model venga chiamato perché non basta scriverlo serve che il main chiami il metodo set model passandogli il valore opportuno del libretto che ho appena creato ok? e questo set model è un metodo dell'oggetto controller ok? dentro la classe entry point dov'è l'oggetto controller di cui devo chiamare il metodo set model? non ce l'ho qua non c'è nessuna variabile che corrisponde al controller perché? perché il controller viene creato dietro le quinte dal loader ok allora bisogna un attimo modificare l'operazione di load per fare in modo chi è che sa qual è l'oggetto controller? è il loader e che ha un metodo get controller e mi dice e mi dice qual è il controller che lui ha appena creato però per farlo ho bisogno di un oggetto fxml loader vero e non solamente qui non sto creando un oggetto fxml loader ma sto usando un metodo statico punto load quindi ho chiamato il metodo l'ha costruito e poi se l'ha dimenticato perché il loader non c'è un oggetto loader che si ricordi ciò che ha fatto devo leggermente modificare il modo in cui viene creata creando un oggetto vero e proprio fxml loader chiamiamo loader uguale new fxml loader così e poi a questo oggetto che avrà anche lui un metodo load a cui passo esattamente la stessa cosa di prima e ovviamente mi ritornerà esattamente lo stesso valore di prima quindi ciò che faccio è sostituire la chiamata a un metodo statico load che era comodo se dovevo fare solamente con l'operazione quando dovevo fare semplicemente la creazione della scena la sostituisco con creo un oggetto e chiamo il metodo load su quell'oggetto finora non ho cambiato nulla semplicemente questo load sarà l'indirizzo della scena lo devo mettere nel costruttore l'oggetto fxml loader e poi chiamo il metodo load che sa già direttamente qual è l'indirizzo quindi lo ridico anziché chiamare un metodo statico della classe fxml loader dicendo quale fxml creare leggere ho creato un nuovo oggetto fxml loader e nel costruttore gli sto dicendo quale scena deve creare e poi chiamo il metodo load che a questo punto è un metodo di distanza non è più un metodo di classe che attiva il caricamento e restituisce la stessa cosa di prima l'ho girato semplicemente per chiamare un metodo normale non un metodo statico ma fa la stessa cosa perché ho fatto questo giro per avere un oggetto loader il quale oggetto loader ha un metodo getController l'fxml loader ha creato i nodi della scena mi ha restituito root il nodo radice e va bene ma lui ha anche creato il controller e se voglio sapere qual è l'oggetto controller che ha creato me lo dice col getController che restituisce la classe controller quindi se io faccio un getController mi restituire un oggetto di tipo fxmlController loader ah si c'è controller quindi ho cambiato leggermente il modo in cui leggo il file fxml per avere ancora un riferimento alla classe loader e chiede mi dici anche qual è il controller che hai creato così me lo salvo in una mia variabile controller e a questo punto posso chiudere il cerchio dicendo controller al controller setModel model model allora abbiamo fatto questo adesso rileggiamo le quattro righe di codice che vi ha scritto non abbiamo scritto di più all'interno del main abbiamo creato la classe model abbiamo chiamato il metodo setModel del controller affinché lui si possa ricordare e conoscere su quale modello lavorare per poter chiamare questo metodo setModel abbiamo dovuto avere dentro il controller dentro il main un riferimento alla classe controller e quindi per farlo abbiamo dovuto modificare la chiamata al loader nulla di più qui creiamo carichiamo il file fxml e abbiamo il nodo radice esattamente come prima questo oggetto loader mi permette però di avere il riferimento alla classe controller che è stata creata automaticamente dopo già che è stata creata dopo che abbiamo chiamato l'initialize poi a parte mi creo la classe model che non ha nulla a che vedere con l'interfaccia grafica con il controller con fxml eccetera che è la logica applicativa e poi finalmente chiamo questo setModel sul controller tutto questo perché il controller che torna sulla classe controller possa lavorare su un oggetto model che gli viene passato e non debba far lui la new del model cioè sarebbe sbagliato nel nostro pattern scrivere qua questo cioè non potrebbe dire ma perché devo complicarmi la vita ho il controller faccio in modo che il controller si crei il suo modello su cui lavorare però abbiamo deciso che questo non ci piace perché non è non funzionerebbe nel caso in cui avessimo più di una scena o più di un controller non funzionerebbe nel caso in cui volessimo usare il model anche dall'esterno del controller perché se la creazione è poi dentro il controller per poterlo creare devo sempre avere un controller quindi questo no e a volte è fonte di problemi perché poi avete nel main un libretto un modello poi nel controller ne create un altro e questi due di fatto poi non si parlano quindi ricordiamoci che la variabile model è qualcosa che il controller riceve da fuori e poi si lavora allora proviamo a vedere cosa vuol dire ci lavora vediamo facciamo un attimo partire il programma che non farà nulla ma vediamo solo che non ci siano degli errori ok allora in poco tempo quindi senza poi dopo l'intervallo lo riprendiamo meglio ma giusto per vedere che questa cosa funziona a questo punto dovremmo essere pronti a scrivere questo metodo endo nuovo voto e cosa dovrà fare io adesso butto giù tre istruzioni ma poi le faremo bene con il controllo degli errori avrò il nome dell'esame da aggiungere che lo strago da dove dal txt nome punto get text la proprietà text del nome il voto il punteggi li estraggo da dove li estraggo dalla combo box attraverso la proprietà get value noi avevamo nella combo box una proprietà items che mi dava la lista di tutti gli elementi di questi la proprietà value è definita come l'item selezionato se la combo non è editabile non è modificabile dall'utente questa è una combo fissa quindi va bene quindi il valore attualmente selezionato dall'utente è get value e quindi nome e punti sono i due parametri dell'oggetto vuoto che sto creando e sto aggiungendo al libretto qui in realtà su questa riga vuota bisognerà fare una serie di controlli di validità il nome c'è il voto è stato scelto eccetera eccetera adesso lo rimanderei dopo l'intervallo e però se io facessi run adesso cosa succede quindi io potrei inserire un nome scegliere un voto fare aggiungi e può darsi che il voto sia stato aggiunto abbiamo fatto solo metà del lavoro del controller metà del lavoro del controller è acquisire i dati e agire sul modello affinché questi dati vengono cambiati e la seconda metà è prendere lo stato aggiornato del modello e visualizzarlo se devo prendere il contenuto di questo libretto e scriverlo in questa textarea sopra come faccio? ebbè andiamo a vedere la classe libretto che cosa mi dà punti esame is duplicato is conflitto to string questa è la classe libretto forse la cosa che più si avvicina è questo to string qua se vogliamo fare in fretta possiamo chiamare questo metodo mi dà una stringa che rappresenta il contenuto attuale del libretto la possiamo mettere nella textarea poi magari è brutta e non ci piace allora creeremo poi un metodo apposta nel modello che sia richiamabile dal controller o da chiunque voglia il libretto in forma carina per ora possiamo chiamare diciamo così un contenuto libretto qui sono sempre di nuovo dentro il controller e chiamerò libretto punto to string e questa stringona che dovrebbe contenere tutto il libretto la metto nella textarea quindi text txt voti punto set text sapete che sulle campi di testo ho soliti metodi get set ho anche un metodo append per aggiungere al testo attuale ma poiché noi la to string ci dà ogni volta l'intero libretto dobbiamo sostituire il valore vecchio con quello nuovo adesso dovrebbe già fare qualcosa quindi io seleziono un nome seleziono un punteggio faccio aggiungi e qua mi stampa qualcosa altro esame cambio il punteggio faccio aggiungi non è il modo più elegante di mostrarlo ma era il metodo che avevamo chiaramente adesso dovremmo magari farlo meglio la cosa di cui siamo fieri oggi è che non abbiamo toccato una sola riga nella classe libretto ci abbiamo lavorato intorno per poter agganciare la classe libretto che aveva una sua logica di gestione dei dati a un'interfaccia grafica e il controller ha a che fare col modello chiamando i suoi metodi comunicando scambiandosi oggetti o scambiandosi stringhe tra il controller e il modello ok questo è l'organizzazione del codice che avremo sempre da adesso in avanti il main dobbiamo modificare quelle 3-4 righe il controller dobbiamo ricordarci di aggiungere questo metodo e richiamarlo e poi tutto funziona tutti i vari pezzi si parlano tra di loro ok allora adesso facciamo 15 minuti tranquilli di pausa e poi riprendiamo questo esercizio aggiungendo metodi rendendolo un pochino più completo grazie a tutti